Modas, sas bogas de esos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Su tempus de hoy, su passado e su tempus benidore de su canto a tenore, contados de esos cantadores e de Bustiano Piloso. Piero Pala canta de su denore e con Cordo de Rosé, uno de su grupo de canto brusattivo su su panorama internazionale, de su música tradizionale e de su world music, con turné mondiales e collaboraciones con musicistas de Atrial Musicasa e Atrial Salasa de su mundo. Con Bustiano Piloso, Piero arrezona da desesperienza per i su mundo de su denore e con Cordo de Rosé, de comentesi a bello a zappare in Forasa un montone de gente interessada a su canto sardo, che iscultata con grande attenzione. E finza a de comentes' atividade internazionale, pedata a sus cantadores de ese sempre plus profesionales. Iscultate boscommo, sa resonata de Bustiano Piloso con Piero Pala. Saludos a todos, Piero Pala de su tenore e con Cordo de Rosé, Quintecuzo me dà ad aggradare de arreglionare de guste esperienze a Ostra, que no espezzi un'esperienza intrasaída, ma que este vince esa esperienza bella de zirare su mundo, poti mulnarrere cantende a tenore, de abogliare a terra gente, de cantare chinatros artista, insomma un'esperienza manna, che bosazzo il fatto incustosanno. La prima cosa che ti pregunto è che su e andare a fuori, bosazzo ha cambiato esa maniera de cantare, de non musù, de sui si faghe d'intrasaída, comente lui di stu? No, esa maniera de cantare non l'ha cambiata, es un modo per assoluto. Siamo abbarrati, ed è una cosa che non siamo imposti da sempre, de cantare comente abbiamo sconnotto dessa gente per umana. certo, il fatto di andare a fuori ha già implicato magari una spettacolarizzazione, tra virgolette, a zico, pruso, professionale, che comunque ti confronta magari con gente che tenete un rapporto, con questa cultura nostra, metà differente da come lo teniamo noi. Noi non chiedete essere una critica, ma uno pago chiedete essere una critica, a noi sardos. quando andiamo a fuori a fare un concerto, noi scriviamo gente in silleri, o cantando a banda, o io canto a samurra, o bufando a latina di birra. Bene neanche andare, puoi scurtare, quindi abbarrano a samuta, sono tutti sizzatori in un luco, e non sentono la musca a volare. Tenere un approccio completamente diverso di come abortare, vediamo in questa festa nostra, per esempio, io ho cantatori di chitarra, poesia, tenore, o gruppi, che esibono, e la gente è spessata a te. Quindi basta una valorizzazione, un approccio metà, per il colto, a questo che è il canto, a questa esibizione, e devo narrare che le aziende, i foraggi, vengono per metà preparate, e sopra questa materia. E' una cosa che potrebbe parlare strana, ma a volte uno francese, uno tedesco, sono metà per il documentatore, di uno sardo, e sopra di ciò che andano a scurtare. Emo, tu e Minaras, che praticamente queste aziende, a Savini, che abbadoio, strumento, sicuramente potrebbe essere YouTube. Sì, si documentano tramite internet, YouTube, andano a leggere. Mentre per noi, si potrebbe parlare una cosa scontata, che lo teniamo durante i giorni, poi sono scontati noi. E quindi, li scurtano a chi mette interesse, e iscrivano già, e a volte stanno conoscendo, già che hanno studiato prima, e hanno studiato prima, su chi andano a intendere e scurtare. E' una cosa, un aspetto bello, che ti dà una specie responsabilità, da noi, su un certo che fa, che se cattano i sententi, il gente, che stai scurtando, è vero, è vero, è vero. e canta, anche in un senso di responsabilità, è questo che viene da su come inzio, che si avviene, è costruzato di atti, di una specie di professionalizzazione, di su cantare, a uno sistema, che deve, in qualche maniera, concordare, a sua sicura, con forma su cantunzio normale, cioè, ti deve sforzare, di essere organizzato, cioè, per farvi provare. Sì, di fare che, di fare che, di fare che, di fare che provare, e comunque, devi stare in esperienza, una certa capacità, di comunque, di avere un'esibizione, cioè, non ti potresti presentare, come ti succede, ti portare, mancare, no, che, che intende gente, per il, che è pacco attonata, che è pacco preparata, ti deve fare che provare, ti deve allenare, può ottenere, poi, un certo risultato, e anche, è anche una bella figura, indennante di un pubblico, tra virgolette, che, comunque, ascolti, capitata a bordo, che vengono a discutere, altri musicisti, che le musica, non comprendono, oppure, professori universitari, o etnomusicologi, stranieri, tutta la gente, che è documentata, e sopra, del, 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 che è su, che è su, che è su, che è su, nostro, e quindi, deve scrivere, e, di ripagare, in Amos, questa attenzione, verso la cultura tua, dannere il massimo, del suo risultato. E questo, appare questo, frena da giocantonzo, lo vaga in mezzo, o lo vaga in peso, dai su un punto di vista, di giocantare nostro, è? No, non lo vrenata, secondo me, lo migliorata, comunque, invoglia sa persone, e uno pacco, lo obbligata, a migliorare, sempre, sempre dentro, e a non dare, poi scontato, una cosa. Sono due cose, sono due scuole, sono differenti, su cantare, su canto nostro, naschiti, il loco, non di, di esibizione, su canto a tenore, si cantaiti, i sarfestati, i sorzilleri, i suoi spuntini, e, gai, su canto a concordo, cambia già, comunque, in una celebrazione religiosa, non è un'esibizione, però, è comunque, si è esposto, a una, a una tensione, diversa, da parte di, basta, comunque, un pubblico, per il sieste, una celebrazione, che ti stai scurtando, è già una cosa diversa, diverso, è stato cantare, in sacristia, poi allenare, oppure, bufante, suonate a se vino, una volta che, non ho cantato, cantare, in un parco, e fuori, di questa vita tua, è comunque, una cosa diversa, meta diversa. No, su chi, mi pare, di importante meta, è proprio, la prima cosa, che è nato, uno che, si parla con Ammus, per esempio, è la situazione, di questa greia, che al momento vado, in un, vado un pubblico, vado una cerimonia, vado un rito, in su gale, in su momento, se stue, che tiene il suo ruolo, di questa pregatoria, cantata, non ho, primatore, primatore proprio, se si, e se, batto spessone, se, chi, in qualche maniera, interpreta, nasa oga, di questa idea, che, faida da Deuso, che prega, dal suo Signore, no, e in questo momento, vado un pubblico, che, vado un stato, quasi, da un anno, gente, uno montone, di gente, che comprende, uno montone, di gente, che, di schi, no, e che, di giudica, pure in questo senso, in cui, vado in qualche maniera, un momento, fin da difficile, che, assimizza, da quell'attere, se, di stato, differente, se, due, mai, al nato, e, fora, per esempio, andamolo, ma, la gente, non, di comprendere, nulla, e tanto, invece, stu, e, se, niente, che, avviene, se, situazioni, sono, ritualizzate, in, su, concerto, puro, meta, ritualizzate, vado un pubblico, che, un'attenzione, quindi, finza su, un livello, di comprendere, la musica, finza sa nostra, e, tanto, questa cosa, zico, in qualche maniera, si, accursia, no? Invece, su, cantonza tenore, su, pruso, namo, su, che, naschiti, senza, baere, ritualizzate, per una maniera, in interno, un zillere, una companzia, di amigli, coso, pubblico, non bindata, è, è, una maniera, di cantare, diversa, no? Ma, in cui, secondo me, su cantonza tenore, invece, va sempre, in, in, sia, loco che sia, va sempre, una persona, che, discurda, potete, essere una, che, ne comprende, sempre, questo spirito, critico, di che, stai, discutendo, e poi, va sempre, un altro, fenomeno, dentro, di questo, due, cantore, che, comunque, va sempre, una forma, di, concorrenziale, fra, lo, cantore, sempre, no? Va sempre, va sempre, va sempre, va sempre, va sempre, va sempre, si, cambiano, questi, e tanto, in, in, succede, una selezione, come, narrare, e, questo, 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 speso, questo, basso, mi piace, depruso, questo, spustando, e, quindi, si, creata, per, tra, noi, si, è sempre, creata, questa, forse, è una cosa, che, come, era mancante, rispetto, a prima, maschalmente, io, allego, dei sororatori, mi so, pesato, i miei, del minoreto, e del crisi, sì, vieni, con i suoi anziani, che, selezionati, a Bella Bellu, e che, cantai, più o meno, sempre, la matezza, la mazione, per i cazienti, che, cantai, in, sui anni, quando i po' minoreto, vieni, vieni, sempre, per un spacco, e, vieni, vieni, per un'ova, non, sono, tra la generazione, creata, questa forma, di, di, di concorrenza, non ti lasciai, cantare, a, prima, imbucata, questo, non succedia mai, per i, intanto, vieni, i suoi, che, deviano, cantare, i suoi, che, teniano, la formazione, alta, e, vieni, questa, moda, di rispetto, tra, il joveno, e il jovezzo, che, non è, che, entrare, direto, a, cantare, quando, tenere, cantare, questa, forma, di, selezione, come, non vi esplosio, i suoi cantori, proprio, che, secondo me, non è mancata, la scuola, del suo canto, ma, non è una scuola, se, io, uno, in teoria, è nato a cantare, o cantare, non è mancata, proprio, la scuola, di, tipica, in una scuola, italiana, si può entrare a cantare, questa scuola, è mancata. Eh, però, è mancata, forse, ma qualche responsabilità, di, questa generazione nostra, burro. Una prima responsabilità, non, di questa generazione, mea, forse, proprio, di questa tua, è, che, in questo momento, comunque, questa forma di canto, ha, con noto, uno, non un'interruzione, in vita, per esempio, non si sono interrotta, nessuna forma, e nessuna, però, in i cose, la devezzo, in i cose, un pacco, della salistare, bisogna musica nuova, bisogna mobile, nuova, bisogna musica nuova, e quindi, la cultura nostra, è un pacco, è scolata, poi, è stata una ripresa, e come, grazie a Dio, è stata, metta gente, metta gente, che canta, a tenore, per esempio, è stata un montone, di piscine, di zomini, che si accorziano, che li spiagano, che provano a fare il basso, contro, provano a intonare, e viene da tantos. L'ambito, di questa crescita, è stata, interruzione, e poi, non si tanto, che qualcuno, torna a cominciare, però, manca, questa cultura, secondo me, che è stata una volta, e che è stata scontata, di nuove, cantare, pruso, interpretando, il suo momento, che è vivente, il suo momento, per esempio, della passione, che ha in questa chitta santa, e non tanto, può esibire, come magari, lo stessi, sul contrario, e si intende, sul canto, che ha robato l'anima, e che ha l'anima, viene per il pacco. è stato un concetto, ma non, non lo sappiamo, che è l'anima, e ne metà, che il cambiamento, del suo tempo, si intrafinza, in suo ruolo, in sua coscienza, di quello che è il facendo, che cambia, da chi è il differente, a seconda, di questa generazione, di questi anni, che ha finito, il manno, non lo s'adattiamo, al suo tempo, al nostro, siamo il manno, ma deve vivere, sul mondo, di oggi, e tanto, zira a zira, cambiamo, il nostro, non è la maniera, di fare, le cose, e faccio, che mi ha detto, qualche conto, di queste esperienze, di fuori, già ho appiccordato, in YouTube, uno concerto, bello, che ha detto, il fatto, che in questo, so, sì, in due cantanti, due cantori, di San Mongolia, questa è l'unica cultura, che si è similizzata, sul canto, il tenore nostro, anche nel suo basso, e nel suo conto, come noi, però, tenere una forma, ulteriore, del canto, che è scusa, deve creare, zone, per i, che sa parte, superiore, che sa rafforzare, supradezionare, del suo, del suo cranio, e del gai, infatti, rispetto al nostro canto, per esempio, in questo, si intende, questo pezzo è bruschio, però anche nel suo basso, per esempio, la che ne commenta, sono un nostro, ma è stata, ma è stata raschiata, sono resistentissima, è stato un progetto, che è nascritto, proprio per questo motivo, infatti, sono nata, voci nomadi, sul progetto, che sono culturalmente, nomadesi, tenendo, locuri, immensi, allevamenti, immensi, o dei caddi, o dei bestiammi, e quindi, sono sempre rispostanti, se non chiedono, a sattere, legati al suo nomadismo nostro, dei sospastori, dei sospastori, e quindi, questo progetto, è nata, voci di nomadi. è stata una cosa, che abbiamo scelto, anche, proprio, poco sta, assimizzando, che vedi, fra, a sarduare, formare, del canto, abbiamo fatto, tanto il concerto, è stata andata, è stata andata bene, è battistato, un bello incontro, poi, la gente mette, a mano, è simpatica, noi non assimizziamo, da tutto, è assoluto, non è che, è quindi, una bella esperienza. No, è stato un bello, metto, sul concerto, ha scantato, è nevoisi, e finché, questa cosa, il fatto, sparisi, in qualche maniera, tonaini, la differenza, che noto io, è scusa, due, è nato, basso e contro, a questa maniera nostra, come, noi, non abbiamo, questo alboghese, ma, esso, basso e contro, non lo scrobano, come, facciamo noi, che, lo scrobiamo, lo sponiamo, sparisi, basso e contro, e facciamo, questa armonia, di basso e contro, chi può, entra, se ne sa oga, eccetera, eccetera, però, esso, invece, mi pare, che gusto, concetto, di canto, no, esso, anche, ne, pruso, un canto monodico, un po' con tu, suo, addirittura, si accompagna, con la chitarra, e solo, a, 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 è proprio un canto monodico solo. Sì, però come bocare su uno, assimizza a me e a su un ostro, è proprio il sistema di isolare certi armoni cosalti e tenere quasi due soni pari, uno da Eucca e uno da Edizia. Sì, una persona ha creato quasi un accordo, anche due notti, usando gula e nare palato, non riesco esattamente come la tecnica, io non ho neanche un basso e ne ho incontro. È del bellumeta, è del bellumeta. È un bel azelfatto questa esperienza, è un bel vizio. Questo concerto che ho visto tutti in Cracovia, in Polonia. È Atero un azelfatto? Però non abbiamo fatto Atero, la sua prima esperienza l'abbiamo fatta in Marocco, in Paris, poi abbiamo fatto una paia in Francia, in Cracovia, che in Donatero un mongolo l'abbiamo fatto in Francia, in Mont-Saint-Michel, tant'ora volta, in Castello, in Pula, due ora volta, in Bidda. Ah, bello. Infatti, chiedi a raccontare il gusto, c'è il gusto che ha zelfatti in ogre, non rischia, se non mi ha invitato. E non rischia, se non ho vieno, che ha appoggiato che è il bellumeta, in ogre in Sardegna, dove l'isca il no, che vada super a questo, ma la discussione è il medano. ha fatto tutto il suo gambio, il suo ambiamento, il suo cantico, e di ammisturare questa scontaminazione, il di vagher a trascosso, il di aggiungere passaggi, o di cantare Crobato Schinatter, o di un'espezione di battito, non lo so, da questo spurista, a un'ala, e chi invece è spruzio, aberto a questo sconfronto, non lo so. e poi sei il di cui sala, ma poi ti pare bello e importante. Intanto, sul confronto, non è mai una cosa legge, che è nata la scultura, è successo sempre la storia. Vedi, che è nata che la Sardegna è tancata, tipo, cupa, che non vi sia, ma che temiamo, sempre, che veniva da ora, e questo non è vero. E se sono ultimi, sui studi, sono gli iscritti, che sono sardegna, sono andato in Egitto, sono andato in Medio Oriente, e già, e tanto, sono andato sconfronto, sono andato con la scultura, che non è essere leato, di solo, e che non è spiegato, per le altre. Quindi, noi scriviamo, se è un di cultura, barra è tancata, sicuramente, anche bene il suo, ma, la barra è tancata, è nulla vocata, e non potete imparare nulla di nessuno. Invece, noi siamo separati, senza toccare nulla, di questo che, non cambiamo il canto, assolutamente, perché il canto è capitato, di non lo inventare, ma, un po' divertimento, dai, ma, intanto, lo chiamo sempre, che non è tradizionale, che è tradizionale, è bello nero solo, a su chi ha poco noto, io, personalmente, in Grecia, ho cantato, da solanziano, a su chi ha poco noto, e basta, questo è un po' meno tradizionale, altre operazioni, di recupero strano, o di registrazioni, che non si è mai a campo, oppure, di disinventare un canto nuovo, a tenore, no, ha poco noto il corso, e questo è un corso, e non l'abbiamo cambiato, manco mai, che sono i musicisti, che abbiamo, a sapato, che sono i musicisti, con certi paesi, l'abbiamo sempre, dimandato, a tutti i musicisti, e, per fortuna, non abbiamo sconato, che questa cosa, l'hanno compresa bene, e l'hanno esposata, di non modificare, lo canto, di questa maniera, per assoluta, quindi, sopra, di questo, che abbiamo noi, non ci poniamo noi, a cantare, sopra, di questo, che ha, in questo strumento, che sarà la bocca, è uno passaggio importante, poi, te, non, su chi va, da sopra, a questo, differente, la maniera, adesso, il musicista, il devora, e adesso, il cantatore, il nostro, so, di si confrontare, non musicalmente, voi, tenete, di questi stili, che tu, hanno dato come, che in sui principi, so, che, al mento vado, che, mi pare, che si potete condividere, in tutto, e, già, per fare, con, il complimento, spesso, che ha fatto, in questi anni, a te, personalmente, ma, sono, sottotitoli, del sud e nord, che ha fatto, il battito, vince, già, con questa professionalità, con questa serietà, e, la musica, non è nostra, come, sardoso, so, cantare, con le rosei, fuori, da Sardegna, e, poi, il fatto, che, è, e, voglio, deseguire, deseguire, e, chi, magari, fin, se, la generazione, il nuovo, si, portano alle are, saraglia, ostra, può, seguire, questa camminera, ti, ringrazio, po', questa, regionata, prego, a, sattara, volta. Adzi, escoltato, Modas, sas bogas, de so, cantadores a tenore, su, podcast, de so, progetto, Modas, intervistas, de Bustiano Viloso, produzione esecutiva, de Diego Pani, registrazione, saudio, de Bustiano Viloso, e Gigi Oliva, editing e mixaggio, de Roberto Macis, sigla, e presentata, de sa spuntadas, de Diego Pani, sa sigla, e su ballo d'orrao de vonne, cantato, dai su concordo, su connoto, su podcast, de Modas, est unu traballo, de SISRE, istituto, superiore, regionale, etnografico, de Sardegna.